Un locale polivalente per cene private, degustazioni di vino e ristorante gourmet. Chi lo ha detto che nel post-emergenza non si può investire? La dimostrazione è che anche dopo la crisi si può ricominciare, arriva dal giovane pratolano Mario Ferrini che l'altro giorno ha inaugurato il nuovo locale la rimessa nel mercato, il fratello minore del mercato centrale, una cantina che conta circa 200 etichette da ogni parte d'Italia. Da ristorante alla rimessa passa la crescita imprenditoriale dell'attività che allarga i suoi spazi e getta il cuore oltre l'ostacolo in un momento sicuramente non facile per il settore imprenditoriale. Inauguriamo oggi il locale rimessa a mercato, diciamo il fratello minore di mercato centrale, un ristorante gourmet con il focus sul mondo del vino, cioè tutto diciamo roto intorno al mondo del vino, infatti l'abbiamo chiamato appositamente vineria. È un ristorante gourmet con possibilità di riservarlo interamente anche per feste private e con una zona specifica solo per le degustazioni di vino. La nostra cantina conta più di 200 etichette di qualsiasi parte d'Italia, dai vini più prestigiosi al mondo all'etichette anche abruzzesi, biologiche, biodinamiche e soprattutto per tutte le tasche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.